La stagione cestistica algherese si è conclusa con la festa del mini basket. L'impianto di via Kennedy ha accolto gli oltre 200 bambini accompagnati da amici familiari e gli istruttori della scuola d'estramento basket San Paolo Alghiero. In questa stagione il settore maschile, coordinato da Francesco Lai, ha raccolto ottimi risultati con l'Under 17, l'Under 14 e gli esordienti. Il settore femminile, che vede Antonello Muroni quale responsabile, ha partecipato ai campionati Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 ed esordienti, festeggiando la convocazione di Elena Bardino nella squadra regionale sarda Progetto Azzurrina e di Delia Galeano alla Jambor Rosa di Napoli, dove sono state chiamate tre sole sarde tra le 72 cestiste provenienti da tutta Italia. La responsabile del settore mini basket, che conta 150 iscritti, è invece Loredana Mellai. Grazie a tutti.